L'emergenza coronavirus ha mostrato che senza una grande agricoltura non c'è una grande Europa e grandi nazioni. Abbiamo bisogno di una grande agricoltura. Noi agricoltori dobbiamo far capire ai parlamentari europei e alla Commissione che sarà importante avere una grande politica agricola comunitaria e soprattutto un Green New Deal che metta al centro la capacità dei produttori di dare certezza ai consumatori in termini di produzione, quindi di autosufficienza alimentare e dall'altra di rispetto dell'ambiente. Un grande grazie va al Presidente Rookfield per quello che ha fatto per noi in questi due anni. Sono sicuro che il COPA sempre garantirà il massimo impegno per salvaguardare i diritti degli agricoltori europei.